La scuola incontra l'ospedale Il reparto chirurgia dell'ospedale Mazzolani Vandini di Argenta Ogni anno viene scelto un reparto dell'ospedale e all'interno di questo reparto verrà poi condotta o condotte le classi che sono state scelte durante l'anno scolastico e verrà fatto un percorso attraverso il quale i ragazzi avranno la possibilità di comprendere quali sono le attività che vengono svolte all'interno del reparto quali sono anche le mansioni che vengono svolte da tutti gli operatori che lavorano all'interno del reparto scelto Il reparto di chirurgia è stato scelto dalle nostre prof di biologia a cui dobbiamo ringraziarle per il progetto Ovviamente c'è tutta una preparazione prima dell'incontro con gli operatori del reparto e questa preparazione consiste in lezioni che vengono svolte personalmente dalle docenti di scienze e anche nella preparazione di domande e proporre al primario alcune domande Questo si svolge ovviamente durante l'intero anno scolastico e si concluderà poi al termine dell'anno scolastico con la visita all'interno del reparto Penso che questo sia stato un progetto molto intelligente perché ci ha fatto vedere dall'interno cosa vuol dire lavorare in ospedale e cosa significa vivere in quel luogo tutti i giorni Grazie anche alla collaborazione del centro giovani di Argenta e quindi dell'università ovviamente di Argenta e grazie alla collaborazione del dottor Gannino vengono fatte delle riprese all'interno del reparto e quindi viene il tutto durante un incontro finale proiettato alla presenza ovviamente dei ragazzi, dei docenti e di tutti gli operatori sanitari che hanno collaborato al progetto stesso Sì, mi è piaciuto molto questo progetto, poi mi sono offerta volontaria per entrare in sala operatoria ad assistere alle spiegazioni dei medici direttamente di persona siamo state accompagnate dalla professoressa Donati Mara e Pallara e assieme a me c'erano altri studenti, parte della mia classe e parte dell'altra terza che hanno potuto assistere a questo progetto Anch'io come lei mi sono offerta volontaria perché sostanzialmente mi interessava vedere come era fatta una sala operatoria e tutte le fasi della sterilizzazione, gli strumenti da utilizzare per gli interventi Innanzitutto non avevo mai visto una sala operatoria dal vivo ed è stato molto interessante Mi interessava vedere effettivamente in che modo siamo sicuri che gli strumenti utilizzati per fare degli interventi siano sterilizzati, che non siano a posto Ci hanno portato, era già stato scelto dal professore oppure dalla professoressa Cioè dai medici che avevano già scelto loro Sì, penso di accettare come quest'anno, basta che non sia uguale altrimenti l'ho già fatto Abbiamo un po' parlato, abbiamo tirato fuori le varie opinioni, ci siamo confrontati e abbiamo aspettato fino alla visione del video creato Io ero solo interessata ma non penso che avrò mai coraggio di fare questo tipo di lavoro